Un progetto di riqualificazione che vuole incentivare la socialità del quartiere del Vallato. Il comune di Fano ha presentato nei giorni scorsi la nuova veste della piazza esistente dietro la chiesa di San Paolo Apostolo. Spettacoli all'aperto, spazio per i più piccoli, attività sportive e ludiche saranno alcune delle tante attrazioni di questo luogo. Il costo dell'opera è di circa 500 mila euro. Sarà realizzato in tre parti fondamentalmente. La prima più vicina alla chiesa dovrà essere riportata al piano per creare uno spazio aggregativo che connetta il resto del parco, il centro commerciale con la chiesa. Poi sotto ci sarà questo spazio con la fontana e con le opere d'arte contemporanee che vorremmo mettere e più in basso ancora allo stesso livello dell'attuale. Manterremo il campo da pallavolo all'aperto che è comunque molto frequentato dai bambini d'estate soprattutto. La nuova piazza realizzata dall'architetto Ceccarelli è stata presentata alla popolazione con commenti positivi anche perché renderà un posto lasciato a se stesso con i segni del tempo in un luogo moderno dedicato a residenti e ragazzi. Ormai sono passati anni da quando è stata creata e dunque aveva bisogno di arrestarli e soprattutto creare un'interconnessione tra la chiesa e il centro commerciale in maniera tale che ci sia appunto una grande piazza dove la gente si incontra. Infine il progetto andrà a completarsi con la realizzazione della nuova casa della comunità della parrocchia San Paolo finanziata dalla CEI e con la creazione del nuovo parco urbano all'ex campo d'aviazione. dal vallato si svilupperà e si collegherà al centro, alla città in maniera tale che insomma si possano creare anche percorsi ciclabili e pedonali. Ovviamente ci aspettiamo suggerimenti e osservazioni ma crediamo che una volta fatto questo progetto il quartiere vallato veramente sarà riqualificato e sarà apprezzabile, io credo, il lavoro dell'amministrazione comunale che ha riportato questo quartiere al centro della propria attenzione. Grazie. Grazie. Grazie a tutti